al massimo alla settimana, gli altri giorni ti mangi una verdurina, ti mangi una bistecchina, ti mangi il pesciolino e fai sport, lavora, lavora con i pesi, che è la cosa fondamentale, secondo me, poi è un mio suggerimento poi ognuno, voi siete anziani, anche voi che siete anziani, è ovvio che se sei anziano e non hai mai sollevato il massimo che hai sollevato è stato la forchetta per portarti alla bocca le schifezze che mangi non è che puoi andare in palestra il primo giorno e tirare su 100 kg, devi magari farti seguire da un personal trainer oppure insomma fare le cose in modo grande, però è molto importante questo, perché se tu sei più appetibile fisicamente è ovvio che non deve andare a discapito della mente, cioè non è che tu devi essere in forma fisicamente poi sei un troglodita, un ignorante, io credo che mente e corpo devono andare, mente e corpo